L'obiettivo comune è quello di ottenere competenze in 23 materie. Lei ha apprezzato nei mesi scorsi l'intenzione di queste due regioni. Come la vede oggi e prevede una strada simile per la campagna? Credo proprio che sì. Innanzitutto voglio ricordare che siamo stati più virtuosi del Veneto e della Lombardia perché loro hanno fatto il referendum e hanno speso 20 milioni di euro per mandare la lettera al governo per chiedere la discussione. Noi abbiamo mandato la stessa lettera senza fare il referendum. Quindi abbiamo fatto un'operazione di risparmio. Battute a parte, siamo interessati a questa discussione. Sulla base di alcuni principi chiari. Per me l'unità nazionale è un valore sacro e su questo non si discute. A partire da questo tutto può essere valutato e migliorato. in direzione dei territori, dell'autonomia e dell'autogoverno. Tranne alcune funzioni centrali che riguardano la sicurezza, che riguardano, io credo, la pubblica istruzione, quindi i processi formativi oltre che i temi economici. Per il resto più si decentra, più si responsabilizzano i cittadini e i territori, più si consente ai cittadini di valutare la qualità delle classi dirigenti, meglio è. L'autonomia per me significa anche uno strumento per valutare e distinguere i cialtroni dagli amministratori seri. Quindi credo che dovremo affrontare questo discorso dell'autonomia con grande libertà. Chiariamo ovviamente che poi arriveremo al punto di sostanza che è quello che riguarda il riparto delle risorse. E lì il discorso sarà un po' più complicato. Per quello che ci riguarda riteniamo che, per esempio, il criterio della spesa storica sia non più tollerabile da parte del mezzogiorno. Cioè l'idea che chi è stato nell'inferno debba continuare a sprofondare ancora di più nell'inferno è un'idea suicida per l'Italia, non per nessuna. Ma lei è d'accordo a che ci sia una ripartizione del residuo fiscale più favorevole alla Lombardia, al Veneto, alle regioni del nord? Ragioniamo nel merito. Io credo che dobbiamo riequilibrare a favore del sud. E dobbiamo avere dei criteri premiali e anche dei criteri di penalizzazione per chi non usa i soldi in maniera corretta. Per fare un esempio, Napoli, la città di Napoli, è la città d'Italia che riceve i maggiori trasferimenti da parte dello Stato. Nessuno si può lamentare. Credo di ricordare 360 euro pro capite l'anno, più della capitale, Milano ne riceve 54. Ora è evidente che c'è una particolare sofferenza di quella città. Ma io rappresento quel sud che pretende le verifiche di efficienza e di correttezza. E cioè, se le risorse che arrivano al sud non sono spese in maniera corretta e produttiva, io sono per toglia delle risorse. Senza pietà. Allora, ragioniamo molto nel merito, senza ideologismi, senza pietismi, senza lamentazioni. Nella conferenza Stato-Città io ho proposto l'adozione del criterio dei costi standard. Sono state per la verità le regioni del nord a dire di no. La Lombardia va bene comunque perché è su una media corretta. Ma io sono per proporre la sfida dell'efficienza anche dal sud. Voglio le stesse risorse che ha ogni cittadino italiano, dal Piemonte alla Sicilia. Il tema del decentramento politico è sostenibile, secondo lei, oggi all'interno del Partito Democratico, dentro la linea politica del PD? Credo che prima di affrontare il problema del decentramento politico, vedeva affrontare il PD il problema del suo futuro, della sua sopravvivenza. Ma da dove si riparte? Non vorrei poter dire che ai tempi di Bersani parlavo di un gruppo dirigente di anime morte. Non vorrei essere riguardoso nei confronti di nessuno, ma mi pare che ci siamo molto vicini. Nel senso che io stesso faccio fatica a volte a capire qual è la proposta del PD. In modo particolare, credo che sia necessaria una svolta radicale sul tema della sicurezza e sul tema del lavoro, che sono le due questioni delle quali il PD incredibilmente continua a non parlare. Abbiamo presentato una proposta per il lavoro al sud due settimane fa. Il PD non se ne è neanche accorto e l'ha presentato un dirigente del PD, il presidente della regione Campania, con tutti i presidenti delle regioni. Questa è una cosa sconcertante che è testimonia di una pochezza e ottusità del gruppo dirigente nazionale. Sul tema della sicurezza credo che paghiamo ideologismi che dal mio punto di vista sono insopportabili. Il tema della sicurezza ha sempre due facce. La faccia della solidarietà, la faccia dell'umanità, la faccia dell'accoglienza. Io sono fra quelli che ritengono irrinunciabile un principio di umanità. Quando vedo bambini che arrivano abbandonati, soli, credo che abbiamo il dovere umano cristiano di accogliermi. Quando vedo il volto di quel bambino, Aylan, con la faccia diversa su una spiaggia della Turchia, io penso che un essere umano non possa girare la testa all'altra parte. Poi c'è l'altra faccia, che è quella che il PD ignora totalmente, quella della sicurezza. E su questa seconda faccia del problema il PD non dice una parola e questo è intolerabile. Nelle aree urbane c'è un problema di sicurezza e il PD non se ne accorge. C'è una domanda di sicurezza che non coincide necessariamente con il carattere raziale dei delinquenti. Sono delinquenti anche italiani. Io credo che dobbiamo approvare un nuovo quadro legislativo che consenta alle forze dell'ordine di garantire la tranquillità delle famiglie. Chi chiede sicurezza non è un repressore. È una persona che, come me, vuole essere lasciata in pace con la propria famiglia. Ma a questo punto lei, il PD, lo vuole superare e chiudere come suggerisce Calenda oppure no? Non mi interessano le discussioni formali. A me interessa una discussione di merito che ancora non c'è. Ho tentato di proporla ma, ripeto, c'è un livello di ottusità burocratica che è diventato vero patologico. Mi interessa nel merito capire che cosa proponiamo agli italiani. Sicurezza, qual è la proposta. A me gli ideologismi non dicono più niente. Ma lei cosa proporrebbe? Le ho detto un attimo fa, propongo che ci siano delle leggi completamente rinnovate a tutela della sicurezza. Più severe, insomma. Contro la microdelinquenza, contro l'accattonaggio molesto, contro quelli che vengono in Italia per fare spaccio di droga e organizzare la prostituzione, quale che sia la nazionalità. Non credo che possiamo mettere un cittadino che chiede sicurezza nella condizione di sentirsi quasi colpevole di questa richiesta. Ma quando mai? E continuo a rilevare che il PD è totalmente lontano da questa domanda di sicurezza della povera gente. Perché la sicurezza riguarda la povera gente, quelli che vivono nei quartieri, nelle ville comunali, non quelli che hanno i miliardi che la vita sociale se la vivono da altre parti. Ma la differenza con la destra sarebbe? Pubblica amministrazione, codice degli alpati, tema della giustizia, queste sono le questioni su cui si definisce un profilo programmatico. E su tutte queste questioni, a cominciare da me, non ho capito che cosa propone il PD. Quindi la destra ha intercettato meglio queste esigenze, insomma, secondo me? Sarebbe difficile non rilevarlo dopo questo risultato elettorale. Ovviamente anche qui una parte della destra rischia di fare l'errore opposto, di vedere solo un lato della medaglia e non i due lati della medaglia del problema sicurezza. Io credo che un paese civile debba avere una posizione equilibrata rispetto a questo piano.